Domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, si aprono le urne delle elezioni politiche 2022. Per la prima volta nella storia della Repubblica, tutte le persone iscritte nelle liste elettorali del proprio comune, con più di 18 anni, potranno votare sia alla Camera che al Senato. Un voto molto importante perché queste elezioni contribuiranno a ridisegnare la composizione del Parlamento italiano che da quel momento potrà legiferare e scegliere il prossimo presidente del Consiglio dei Ministri. Saranno eletti complessivamente 600 parlamentari, di cui 200 senatori e 400 deputati. Per votare è necessario avere con sé un documento di identità e la tessera elettorale. Per chi non avesse la tessera può ritirarla all'interno degli uffici del proprio comune, che rimarranno aperti anche il 25 settembre. Nel comune di Senigallia, per agevolare gli aventi diritto al voto, i residenti della zona rossa che hanno perduto la tessera elettorale troveranno un'attestazione sostitutiva, valida solo per questa tornata elettorale, direttamente nel proprio seggio di competenza. A Cantiano, invece, gli uffici elettorali dei servizi sociali e anagrafe sono traslocati al primo piano. Tutte le informazioni sono riportate sui siti istituzionali e pagine social ufficiali del proprio municipio di residenza. All'ingresso di ogni seggio, l'elettore avrà a disposizione due schede, una per la Camera di colore rosa, mentre quella per il Senato di colore giallo. Il voto si ottiene tracciando una X sul simbolo della lista prescelta. Così facendo, il voto è valido sia per la lista che per il candidato ad essa collegato per ciascun collegio elettorale. Al contrario, se il voto è tracciato sul nome del candidato, il voto vale anche per la lista. Nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Infine, non è ammesso il voto disgiunto, ovvero tracciare un segno su una lista e sul nome del candidato di un'altra lista.